Sono il discorsabile del settore giovanile, il vienese Wimbardo di Cesari, con i tecnici del Bologna. C'è stata questa doppia giornata di educazione motoria per i ragazzi del settore giovanile. Passo la parola all'anno. Direi che sta proseguendo a pieno ritmo la nostra collaborazione con il centro di formazione con Bologna. Sono venuti nella giornata di ieri e oggi i preparatori atletici, Andre 14, Andre 15, Lorenzo e Francesco, nel Bologna. Il tema della giornata è stato l'imperfezionamento delle capacità coordinative nell'attività di base. Abbiamo passato due giornate molto intense, sia sul campo che in aula. Io ringrazio tutti i nostri tecnici, istruttori, dirigenti e soprattutto i ragazzi che si sono ben comportati. Hanno trotto con divisione entusiasta le giornate con il Bologna. Io sono molto soddisfatto. Vorrei passare la parola ai due preparatori. Sì, è stato un bellissimo incontro fatto qui alla Dianese. Abbiamo lavorato con tutte le categorie dell'attività di base, dai 2013 ai 2007. Ci siamo trovati molto bene, abbiamo trovato dei ragazzi molto rispettosi dell'ambiente e ci rivedremo presto. È stato un bellissimo incontro. Speriamo di rivederci presto. Ancora complimenti a tutto lo staff della Dianese e anche ai genitori dei bimbi e dei ragazzi che abbiamo visto veramente che è dedicazione, ha un'importanza primaria in questa attività di base della Dianese. Abbiamo visto i bimbi che si sono divertiti sia durante le nostre proposte, sia in tutte le altre proposte dei misteri della Dianese che erano molto interessanti, molto formativi per quella che era l'età di ogni singola Dianese. Complimenti. Bene, grazie mille. Vi aspettiamo presto, speriamo che sia un rapporto che continui. Senza, bene.